Ciao a tutti! Oggi prepareremo il blondi alle fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, burro, zucchero, uova, lievito per dolci vanigliato, vanillina, pasta di limone, fragole tagliate a pezzetti e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro ed azionare il bimbi per tre minuti, 60 gradi, velocità 2. Aggiungere lo zucchero ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 2. Aggiungere le uova ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 4. Aggiungere la farina, la vanillina, il sale, la pasta di limone ed il lievito. e ad azionare il bimbi per due minuti a velocità 4. Trasferire in uno stampo rivestito con carta da forno da 30 x 22 cm. Mettere le fragole e schiacciarle. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti. Il blondi è cotto, lasciare raffreddare completamente, tagliare a quadrotti, spolverizzare con zucchero a vela e servire. Blondi alle fragole, grazie e alla prossima ricetta! Blondi alle fragole, grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!